Ma dove andiamo? Allora, ora sono 10 cose su di me. Alessandro, scusate, ok? Prima cosa, prima cosa, il mio piatto preferito, te l'ho detto prima, il mio piatto preferito. Sussi, pizza. Sì, il sussi, bravissimo, ha il primo colpo. La mia razza è di cane preferita. Pitbull. No, zitto, dovete stare fissi. Cane dà droga, la... Sì. Il cane. È un pastore di testo. Vabbè, allora ti mangio perché... E comunque mi chiamo al pastore di testo. Puoi? Ti ricordi che abbiamo visto il canale? Andiamo. Il mio colore preferito. Nero. No, 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 no. Rosso? No. La rossa? No. Blu? No. Azzurro? Che cazzo ne faccio io? No. Merda. Inizia con la D. Diego? No. Dorato, dorato! Quando è di agosto fa dorato? Quando? Eh? Ho aperto il mio canale YouTube. Quest'anno? No. No. Quando? 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 No, tipo settembre. 27 settembre. Settembre. Già te l'ho detto. Il giorno del compleanno tuo? No. Quando l'hai fatto il compleanno? Il 19 di settembre. Il 19 di settembre? Dai, dai, te l'ho detto. Lei è un partentino di un'altra. Eh? Ma già te l'ho detto. Tu dovevi dire pure il compleanno. Gnocchia. L'ho aperto il 27 settembre. Ti ho trollato. Andiamo. Di qua. No, fermo. Cazzo. Poi... Il mio secondo... Il mio secondo... Il mio secondo... Marco, quello è il secondo nome di... Dai, dai! Non puoi parare. Io non l'ho parato quando tu hai fatto il tuo vlog. Qual è il mio secondo nome? Inizio con la R. Riccardo. No. Rocco. Qual è... Ragazzi, voi volete prendere un cane? Ma quale? Peggy. Peggy. E prendetela. E dov'è? È in giro. Ma che... Ne sa che è in giro. Stiamo andati da in giro con Leila. Ti ho detto che era in giro. Ma chi è in giro? Ma allora perché non l'andiamo a cercare? Ma chi tu? Ma perché... Ma è sicuro che siano andati in un posto... Ti immagini che noi siamo qua e Leila non ce ne fuggiamo? L'assortone dove ci sono le macchine. Ti immagini che ora ci spunta? Au! Vai, andiamo. Andiamo. Anzi, facciamo un altro vlog. Facciamo un altro tipo di vlog. Andiamo a cercarla. Questo è un altro vlog. Dove è? Entriamo? Non può essere là dentro. No! È tipo una casa strigata. Tipo vlog casa strigata. Andiamo? Grazie, adesso dobbiamo entrare qua dentro. Entriamo. Buon salve a tutti. Dobbiamo entrare qua dentro. Non so se... È tipo... È tipo qualcosa, tipo... Un parco di nuoto. Dove si nuota? C'è la ruota della mia infanzia. In base di acqua è tipo sempre... È chiuso. Si può sbriciare da qua. Secondo me c'era una semplice di sparata. Perché là è sparata dalla pistola. Ci sa. È sparata dalla pistola. Cosa? È sparata dalla pistola. Ok, ce ne dobbiamo andare da qua. Ok, ce ne dobbiamo andare da qua. Qua c'è il campo e gli un'interno al mezzo. Va bene, io c'ho questo. E c'è il coraggio. Andiamo? Io ce l'ho. Aspetta, posso prendere una corda per metterla? Lasciamo una monta qua. Io uso questo, va? Io uso. Io mi marco una mazza. Vediamo. Questa faccia di regno. Voglio vedere se c'è un rumore. Io lo lancio. Io lo ho circolato. Allora, levati. Levati. Sta rompendo il vetro. Comunque quello là sembra come uno sparatoio. Ma ci sto ricordo. Lo leggo con questo in mezzo qua. È uno sparatoio. Quella là non è un sparatoio. Questo è una spesa di... Quello sì. Ok. Finto che era per rompere. Fai a te, quello no. Quella lì era il sud e l'invado. Perché se lo sparo nella pistola ci dovrebbe essere tutta la fantomazione in tutto il bad. Io lo storgisco con questo. Io lo leggo, io lo leggo. Dobbiamo andare là dietro, dietro la cosa. Ok. Andiamo. Laga, vai. Chissà che troviamo. Ma no, non sono per spari della pistola. Lo so, ma sono... È sempre una guarda. No, guardiamo di qua dentro. Vai. No, 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 andiamo là dietro. Perché da dentro ci sono i ladri. Andiamo. No, c'è scritto ancora lì. Vado di over. Ok. Là ci sono cavi. Là ci sono cavi per oggi. Ti scherzo. qua ci sono cavi per oggi. Che cacchino. Bene, però non ci faccio andare. Bene. Prendiamo questa ruota. No, mi danni, mi danni. No, no. Guarda, mi è resistente. Mi fai, fatti legare. La portata è la mia infanzia, quella. Della quarantena. Vai. Vai. Non c'è. È la mia infanzia, quella della quarantena. Non c'è l'esistente di Manone. Forse, forse, non c'è lì. Andiamo in un altro posto. È breve, è quello. Andiamo là, andiamo là. Ma le pisci dove le lasciamo? Là andiamo. Ma se ce le rubano? Ma se ci siamo noi. Là andiamo. Ma se ce ne stiamo andando? Là, 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 il cane che morde. Non morde quel cane. Ma non è vero. Qualcuno non morde. Qualcuno non morde. Entriamo là dentro. Appone proprio. Guarda, guarda, guarda. Andiamo a vedere. No, io non ci vado. Là ci sono stati. Là ci sono i ladri. Là ci sono per davvero. Quelli in quella finestra sono colpi di pistola reale. È una notte che ci hanno dormito i ladri qua dentro. Proviamo. Faccio una mossa azzardata. No, devi fare di più bici. Nel vetro, nel vetro. Oh, per davvero. Là ci sono un sparito della pistola. Non sono un ragnatele. Non sono un ragnatele. Spari di un... Spari di pistola. E comunque, ragazzi... Pensavo che erano un ragnatele. Cazzo. Comunque ragazzi qua hanno sbattato... Ragazzi qua li hanno sbattato primi in questa casa. I ladri in pranzo... Cioè i ladri in pranzo... Loro stavano rubando quella casa. Sono corse. E stavano spaventare là dentro. Ti ricordi quello scorso che ci faceva spaventare con i ladri che c'erano là dentro? Sì, infatti i ladri... E lui diceva che c'erano là dentro. Una volta sì. Gli azioni di canale. Gli azioni di canale. Cosa c'è un filo? È un altro e big box. È un altro così. No, devi dubbi. Non è stessa. Si vede, là c'è un catenaccio, lo vedi? Quanti big box? Ma è vero, ma prima non c'era quel catenaccio se non... Vero. Vero? Non c'erano neanche i corsi. E là, se guardi bene... Non c'erano nella porta. Non c'erano. È vero. No, no. Non c'erano nella porta. Solo uno ce n'è perché quello là è l'ottura. Con uno... Qualcosa. Ma l'altro è quel cane? Da dentro, eh? Minchia, solo uno. Andiamo? Si passa di qua e vai di qua. Chi ha il coraggio? Io sì. Andiamo da quel cane. Io cazzo ho paura. Io mi sto fiumendo e tosse. Anche io. Oh, possiamo andare? No, qua. Ho visto un piede. Non me ne... Cazzo. Porco Giuda. Non si parla di cazzate, per davvero? Lo vedo, lo vedo. Lo vedo. Lo vedo. No, 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 cazzo. Me ne vado. No. Porco Giuda. No. No. Porco Giuda, io l'ho visto. Andiamoci. Porca mia, ho visto la faccia. Andiamoci. Provatele. Andiamoci. Ci vado. Io ci vado. Io ci vado. Io ci vado. Io ci vado. Per la gloria... Per la gloria dei miei iscritti. Io pure. Io pure. Ma quello mi è stata la Svizzera. No, se c'è qualcuno per starmi di te. Non vestimiare nel vlog. Io mi rende. Per la gloria dei miei iscritti. Sì, è per la gloria dei suoi canale. Del mio primo canale. Ci sono fuori cavalli, ci abbiamo. Abbiamo. No, non devi camminare. Se non spieghiamo. Andiamoci, vediamo. Ci abbiamo. Le pizze non le scendiamo. Io scendo sotto. Le mettiamo qua. Voglio scendere. Guardate il balcone. Guardate il balcone. Fermo, fermo. Giocato gli escritti. Vieni. Eh sì. Mi metto là. Sendo. Per i miei iscritti. Entriamo. Entriamo. È epico. Non mi interessa niente. Fermi non maschi. Siete con me. Chi viene, viene. Chi non viene, non ha le palle. Ma io non voglio essere il primo. Io sono il primo perché io sono la youtuber. Io sicuro sono. Vieni qua. Non ha paura. Ok. Mi sto cagando sotto già. Mi sto cagando sotto. Tutto fake. Bella che strusso. Non mi metto. Ok ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Raggiungiamo il like. Per la parte due. Ciao ragazzi.